E vado con le tre battute più forti che ho fatto per questa occasione speciale Allora, la prima Questa Vabbè, questa qua non... Vabbè, ne faccio solo le due perché questa, boh, sicuramente è un bel evento Questa non l'ho a scartare là Vado con la seconda Vabbè, ne faccio una e si spacca Allora, vi è mai capitato... Allora, vi è mai capitato, a preverso ai dentisti Vi è mai capitato che... Guardate, io credo che alle volte degli auguri Semplicemente gli auguri siano la cosa migliore e più efficace Quindi auguri zelig Prometto che miglioro sui testi Ciao